Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Miskatonich, o Miskatonich, ma dovrebbe essere Miskatonich, University, che praticamente è un gioco di carte della Chaosium Inc., famosi per GDR come Pendragon e tanti altri, che io ringrazio di cuore da morire, perché questo è il primo loro prodotto che mi inviano, io spero che possa essere una collaborazione duratura, quindi grazie di cuore alla Chaosium per avermene offerto appunto una copia di recensione. E questo è un gioco piccolo, tra l'altro tutto quanto racchiuso in questa scatolina bellina, che sembra quasi un libro, ora vi faccio vedere nell'unboxing, ed è ambientato ovviamente nei miti di Lovecraft, tanto per cambiare di tool e tutto quello che abbiamo visto, però questo più che un gioco d'azione, un gioco di sparatorie, un gioco di indagini, è ambientato tutta in questa università del sapere, dove sono contenuti moltissimi libri dell'occulto, e se non erro si dovrebbe trovare sempre nella città di Arkham. Mi sembra, anche lì non vorrei sbagliare, che in qualche racconto di Lovecraft lui l'abbia menzionata, questa miscatonica, o comunque, scusate la pronuncia, come si chiama questa università qui. E nel gioco saremo chiamati a interpretare degli studiosi, dei professori, non studenti appena arrivati, e dovremo cercare dei tomi del sapere, trovare vari sigilli degli antichi all'interno di questa libreria, libreria in cui al momento c'è stato un omicidio, perché sembra che qualcuno, qualche studente stupido che abbia aperto i tomi sbagliati, abbia risvegliato un demone. Ovviamente del reame dei sogni, tutti i miti di Cthulhu e quant'altro. E noi saremo chiamati a trovare questi libri, a metterli insieme, riuscire a tirarne fuori un disegno generale, e poi dare prova davanti a una giuria di essere diventato il miglior docente o comunque esperto di occulto in questa università qui. Quindi è tutto quanto un gioco veloce di carte, posizionare le carte nel momento giusto, andare a incastrarle nel modo giusto per tirare fuori segni degli antichi e cose varie. C'è anche la possibilità di farsi aiutare dagli studenti rinchiusi con voi in questa biblioteca qui, e il gioco è veloce. Un classico gioco da, io penso, una ventina, massimo 30 minuti, ma forse nemmeno. Unboxing di Rainer Clizia, anche qui spero di non aver pronunciato male qualcosa, e sotto ovviamente c'è il logo della Chaosium Inc. E la cosa bella è che è fatto tipo al libro, guardate bello, no? Sembra un pochino anche messo in una libreria, è bellino, perché la scatolina ricorda molto un libro appunto dell'occulto, comunque del classico romanzetto quasi tascabile, e aprendolo è bellino perché è fatto con una calamita, e quindi si chiude a calamita. Anche questa qui è una cosa molto bellina. Qui c'è il simbolo proprietà del Horn Library, vedete bellino, e dentro c'è il regolamento, anzi i regolamenti, perché sono scritti in quattro lingue. Quindi lo trovate in italiano, in francese, in inglese, e in tedesco. Plance, dei vari docenti, qui non siete né investigatori né combattenti, siete docenti in questa università, in questa libreria, dove ci sono molti test esoterici, e come detto, farete la gara per diventare il miglior docente esperto in questo settore. Mazzi ferite, mazzi difesa, insomma, qui c'è un bel po' di carte all'interno, per poi concludere con il grande mazzo di tutte le carte che potrete andare a pescare appunto dentro la biblioteca dell'università. Allora, nel setup iniziale, qui facciamo conto di fare una partita a quattro giocatori, che secondo me è anche quella divertente e più indicata, il gioco gira meglio. Comunque, vi faccio vedere soltanto una plancia, perché tanto poi tutte quelle altre sarebbero semplicemente uguali come setup iniziale. Cosa vediamo? Nella plancia c'è un personaggio, non ha un'abilità speciale, non hanno niente, poi vi faccio vedere le carte invece difesa, che quelle potrebbero cambiare da personaggio a personaggio. Una plancia di un personaggio, con da un lato, vedete, la possibilità di mettere una, due, tre, a seconda delle scanalature, una, due, tre, quattro, cinque carte, che poi vi farò vedere come funziona, che ci dovete mettere qui i frammenti del grimorio, mentre invece da quest'altra parte, uno, due, tre, quattro, avete quattro slot per mettere gli studenti, mentre invece qua sotto avete uno slot generale, più due lati, per mettere invece le carte sigillo. Poi, qui davanti, le carte salute nere, che sono quelle che potete prendere più avanti del gioco, da questa parte il set di otto carte difesa per ciascun personaggio, quindi semplicemente guardate il disegno che c'è sopra, in questo caso abbiamo preso il professore dottor Byron Zinn, che è lo stesso che vedete qui, quindi prendete le sue carte, queste sono le sue carte difesa, che mettiamo qui accanto al personaggio, l'abbiamo rigirata, perché praticamente dal lato questo, vedete, è il lato coperto, da quest'altro lato invece è il lato scoperta faccia in su, dove c'è la faccia del personaggio, comunque noi le mettiamo così, e al momento queste carte sono tutte quante scoperte, e dunque utilizzabili. Poi abbiamo qua su il mazzo delle carte conoscenza, e dovete prendere anche il mazzo rosso, che è il mazzo delle carte salute, e per ogni giocatore presente, dovete pescare tante carte, quanti sono i giocatori, attualmente in partita, meno uno, quindi, e metterle e incolornarle sotto il sei. Quindi se nella partita è una partita a quattro, ne dovete pescare tre. Come vedete, il numero attuale dei giocatori è meno uno. Pescate la prima carta, cinque, la mettete qui sotto, che vanno a scalare, vedete, come valore. Poi, ne pescate un'altra che è un quattro, quindi la mettete sotto al cinque, devono andare a scalare, per poi prendere l'ultima carta, e la giro è un quattro. Non la potete mettere sotto, perché un quattro lì è già presente. Allora continuate a pescare, fino a che magari non vi uscirà un altro numero. Ad esempio, le prossime due carte erano un 2 o un 3. Quindi, vabbè, la prima che è uscita ci mettete il 3, e la mettete così. Poi, ovviamente, le altre carte che sono uscite, non le rimettete sopra. Questo mazzo qui lo rimescolate direttamente. E poi, qui davanti, invece, il mazzo biblioteca. Questo è il mazzo da cui andate a pescare, semplicemente. Niente di che. Tutte le azioni che potete fare, sono sempre a questo mazzo. Fate conto che questa parte qui, ora l'abbiamo messa vicina alla scheda di questo personaggio, alla plancia. Ma questa parte qui, che vedete qui con tutte le carte, a parte le carte difese alla plancia, deve essere centrale nel tavolo, perché qui ve lo faccio sembrare come se fosse proprietà di questo giocatore. Invece no, deve essere centrale alla portata di tutti. Il gioco si svolge in 5 round. Ad ogni round si guadagna una carta saluta nera, una di queste. Il valore della carta aumenta ad ogni round, da 6 nel primo round a 10 nell'ultimo round, come vedete. E, round dopo round, si gioca per 5 round complessivi. Ovviamente, ciascun round è diviso in turni. Le azioni che un giocatore può fare in questo turno, sono semplicemente due. Lasciare la collezione riservata, quindi passare il turno, dire, va bene, io mi fermo e passo, oppure cercare nella collezione riservata, nella Miskatonic University, che è questo mazzo di carte. Quindi, o peschi una carta nel tuo turno, e poi dopo tocca al giocatore B, che pesca una carta, tocca al giocatore C, che pesca una carta, o se no, puoi abbandonare. Salta il turno, non va avanti e continuano a giocare gli altri. Il turno finisce quando tutti i giocatori hanno passato. Quindi, se voi, paradossalmente, continuate a pescare carte, e fare il giro, ritocca a me, ripesco una carta, rifaccio il giro, e così via, il turno non finisce mai. Potreste finire anche tutte le carte. Però, ovviamente, ci sono delle regole che, anche non volontariamente, vi fanno bloccare il turno. Nelle carte che potete trovare, pescando qua giù, in questo mazzo, ci sono, ad esempio, pezzi del sigillo, come vi ho fatto vedere prima, che, come vedete, hanno un disegno. Quindi, voi, questi pezzi del sigillo, quando li andate a pescare dal mazzo, li dovete mettere, messi così. Perché, lo vedete, questa qui è la parte, destra del sigillo. Quindi, manca il pezzo centrale, e il pezzo di qua. In questo caso, io ho pescato quella carta lì, e dico, va bene, ora, ho fatto il mio turno, tocca al giocatore B. Il giocatore B, al solito, prenderà, girerà la carta, guarderà cosa c'è dietro, e lui questa carta prende, e se la tiene. Noi facciamo sempre conto, io pesco ora per uno. Tanto, ragazzi, il turno è lo stesso per tutti. Nel turno dopo, il giocatore pesca questa carta qui, prende un altro pezzo, e lo mette così. Vedete, deve venire fuori un disegno, il simbolo degli antichi, l'avete visto nei romanzi di Lovecraft, e anche nel Necronomicon, che devono tutti quanti combaciare i pezzi. Se regola vuole, che se un giocatore va a pescare, una carta del pezzo del sigillo, che già possiede, quindi mettiamo caso, mi venga dopo questo pezzo qui, ho completato il sigillo, e guadagno dei punti. Ma, se dovesse venire fuori, un altro pezzo del sigillo, che io già ho, e ho messo in campo, la salute mentale, del giocatore, del professore, sarà stata compromessa, e lui salterà il turno. Quindi, come vi ho detto prima, si possono fare, cercare dalla biblioteca, auto-escludersi dal turno, o anche venire esclusi, da carte in gioco. Quindi, una volta che avrete pescato, una carta del sigillo, che sarà la stessa, che già avete in campo, automaticamente salterete il turno, subendone le conseguenze, che poi vi dirò successivamente. Se, un giocatore, riesce a completare, il sigillo degli antichi, nel momento in cui lo completa, quindi, 1, 2, 3 carte, automaticamente, le mette tutte insieme, le raggruppa, le scarta, perché poi queste carte qui dovranno, nel caso, essere rimescolate col mazzo di base, le prende, le scarta, le mette di lato, e pesca subito, una carta conoscenza. Vi ricordo che quelle conoscenza, sono queste carte grigie. Quindi, ne pesca una, vedete, a due facce, e se la mette, dalla sua parte del tavolo. Forse è meglio, magari, metterla, accanto alle carte, difesa. Però, la prende, e se la mette, dalla sua parte del tavolo. Quindi, lui, completando quella sequenza lì, ha guadagnato, una carta, conoscenza, che poi fanno parte del punteggio, che ti dà la possibilità di vincere la partita, perché, ragazzi, è un gioco a punti, ovviamente. Poi, il mazzo della biblioteca contiene, sette frammenti di conoscenza arcana, che ora vi faccio vedere, e ci sono quattro copie, per ciascun frammento, che praticamente, sono le conoscenze generali, dei miti di Cthulhu. Pescando una carta del genere, la riconoscete, perché ci sono tutti gli simboli strani, e, qua su in cima, c'è un simbolo, che è questo qui. E questo simbolo qui, vi fa riconoscere la carta, Stessa cosa, come abbiamo visto, per le carte in fondo, del simbolo degli antichi, voi del sigillo, voi questa qui la prendete, e vi ricordate, vi ho detto, che da questa parte, ci vanno i grimori, e da quest'arte agli studenti, quindi voi la prendete, e la mettete qui. Tutto il resto delle carte, poi dopo le andrete a impilare, due, tre, quattro, e cinque, perché l'avete visto, sono da una a cinque le scanalature, per gli studenti quattro, per il sigillo invece, sono tre. Quindi anche qui, andate a mettere la prima, la seconda, la terza, anche in questo caso, se nel vostro turno, pescate una carta, la rigirate del grimorio, e c'è un simbolo, che già avete messo in campo, ancora una volta, la vostra sanità mentale, sarà stata bloccata, e compromessa, e quindi sarete buttati fuori, dalla collezione riservata, di Miskatonich, e salterete il turno, come nello stesso caso qui, quindi, qui ce l'ho già, salto il turno, qui ce l'ho già, salto il turno. Se anche qui, le completa tutte e cinque, ancora una volta, pesca una carta a conoscenza, le va a mettere insieme, scarta tutte le carte, nella pila degli scarti, le rimescola, e le lascia nella pila degli scarti, che serviranno poi più avanti, quando il mazzo inizierà a scarseggiare, per rifare il mazzo. Poi, ci sono 16 carte studente, che sono queste qua, e le carte studente, sono come vi ho detto, a livello un po' di background, quelli studenti, che sono rimasti rinchiusi, con voi nella biblioteca, quando uno pesca una carta studente, la mette qui, qui accanto, quindi come avete visto, si va piano piano, a riempire tutta la plancia, che c'è sotto. Questo è l'unico caso, dove anche se, a parte gli studenti, sono tutti differenti, quindi non c'è possibilità di fallire, come negli altri casi, di essere buttati fuori dal turno. Quindi voi, semplicemente, cosa andrete a fare? Voi, quando avrete 4 studenti, impilati lì, li prendete, li scartate tutti e 4, e praticamente potete stappare, una delle vostre carte difesa, che sono la cosa più importante, dei giochi che avete usato. Quindi nel caso, abbiate utilizzato, una carta difesa, e quindi la girate dal lato, dove c'è la faccia del personaggio, la potrete, tranquillamente, ristappare un'altra volta, e riemprona, per essere usata. Quindi gli studenti, servono unicamente, per aiutarvi, a sbloccare, una, una carta tappata, che poi, tanto comunque, al round successivo, la stappate una, quella non è un problema, quindi non le usate tutti nel solito round. Però, in più, magari durante il round, ne avete stappata una all'inizio, e poi una o più, a seconda degli studenti, che riuscite a impilare lì sotto. Quando decidete, volontariamente, di lasciare la collezione privata, quindi di saltare il round, andare al round dopo, uno dice, perché dovrei saltare? Perché, magari, sei riuscito a fare, un tot di punteggio, e non vuoi sfidare la sorte, che potrebbe essere, particolarmente avversa, e quindi dici, sì, prenderò un piccolo malus, magari, i miei avversari, andranno più avanti di me, però io non me la rischio, perché magari avete fatto, un punteggio della madonna, e tutto quanto, siete riusciti a far girare tante carte, e poi ti arrivano due carte uguali, e ti rovini il turno. Quindi, un giocatore, che decide di, volontariamente, saltare il turno, quindi uscire dalla collezione riservata, prende la carta salute, più bassa, disponibile nel round, e la mette dalla parte, della sua plancia. Quindi, in questo caso, mettiamo, lui decide di saltare il turno, prende quella più bassa, e quella più bassa è il 3. quella nera, ragazzi, è una cosa a parte, non la contate, ve lo dico dopo, quindi prende la carta più bassa, e se la mette dalla sua parte. Poi, il giocatore scarta, tutti i pezzi del sigillo che c'ha, tutti, quindi se ce ne aveva, se ce ne aveva 3, ovviamente no, perché già l'aveva finito, però nel caso ce ne avesse uno o due, non avesse fatto la collezione completa, li deve scartare tutti quanti. In più, le carte frammento del grimorio, tutto quanto, quindi sia i frammenti quelli lì, del simbolo degli antichi, che le carte grimorio le deve scartare tutte quante. Gli altri giocatori continuano il proprio round, mentre invece le carte studente che ha, non succede niente, se lui decide di abbandonare, le carte studente rimarranno sempre con lui, e le sue carte difesa, collegate agli studenti, non potranno assolutamente essere influenzate da quelle dei nemici. Se invece uno dovesse essere cacciato dalla riserva, e cacciato dalla riserva, lo vi ricordate, qui due volte, o qui due volte, il giocatore deve scartare tutte le carte dalla propria mano, tutte, anche incluso le carte studente, quindi tutto quello che c'ha, vedete, se uno sbaglia, a differenza di quell'altro che è uscito volontariamente, deve scartare tutto quello che è in campo, e oltretutto, non pescherà nemmeno una carta salute, carta salute, che come tutte le altre cose, servono anche per il punteggio finale, quindi scarta tutto quello che è in mano, anche gli studenti, oltretutto, non prende la carta di quelle rosse o nera che c'è in cima, però potrà comunque girare a faccia in su una delle sue carte difesa, quindi almeno questo, anche a lui che è stato buttato fuori, viene concesso. Le carte difesa hanno vari simboli, che possono essere usate nel corso della partita, non ve le sto a dire tutte, tanto comunque il manuale è decisamente esaustivo, e vi spiega per bene come vanno utilizzate, per farvi un esempio di una, ad esempio questa qui che vedete, è una carta premonizione, vedete, ti fa vedere che peschi dal mazzo, e ne peschi tre, quindi la carta premonizione dice che peschi le prime tre carte dalla biblioteca, e le metti a faccia in su al centro del tavolo, finché ci sono queste carte a faccia in su, ogni giocatore che esegui una ricerca nella collezione riservata, può spendere una di queste carte a faccia in su, oppure una carta biblioteca dal mazzo come da regolamento, quindi semplicemente si prendono, come Cat Baloo in Bang, si mettono davanti, e i giocatori possono scegliere, o da quelle, lui ovviamente per primo, o da quelle che sono lì, oppure possono dire, magari quelle non mi servono, vado a pescare direttamente dal mazzo, e poi ogni carta difesa, ha le sue regole, che poi comunque ve l'ho detto, sono spesso carte che ti danno un vantaggio, nel pescare dal mazzo, una carta, carte che danno uno svantaggio ai giocatori, perché potresti fargli scartare una carta, rimuovere qualcosa, o sono carte difesa, che potreste giocare, nel caso appunto, la collezione, vi butti fuori, perché è uscita una carta doppia, potete giocarla, per magari essere spinti fuori, ma non ricevere un malus, quindi ecco, le carte difesa, sono sicuramente la cosa più importante, e ricordatevi, che le ricaricate, una per ogni quattro studenti impilati, e una a fine del turno, quindi occhio veramente, a non finire tutte nel primo turno, perché rimarrete completamente senza difese, poi nuovo round, pila degli scarti, si mescola, e si buttano tutte nel mazzo biblioteca, che viene rimescolato, quindi questo mazzo qui, a ogni round successivo, viene sempre rimescolato, e levate le carte rosse, che sono rimaste, quindi queste carte rosse qui, che sono rimaste, le dovete togliere, le rimettete nel mazzo, delle carte ferita rosse, le rimescolate, e poi le andate a ridistribuire, un'altra volta, banale dirvi, che questa qua su in cima, poi, vedete, 1, 2, 3, 4, 5 round, si sposterà sul 7, poi si sposteranno sotto l'8, poi sotto il 9, nell'ultimo turno il 10, se i giocatori riescono a prendere quella nera, la carta nera, ovviamente, che è una carta come tutte quelle altre punte ferita, viene tolta, e viene messa dalla parte del giocatore che l'ha presa, quindi, si parte da, il giocatore che prende la prima carta, se è riuscito a quella più bassa, nel caso il secondo, nel caso il terzo, e nel caso il quarto, e anche qui, queste vanno tolte, all'inizio del nuovo turno, rimescolate, e ridisposte sotto, arriva la fase finale, che è la fine del gioco, dopo i 5 round, quindi, anche se uno è stato buttato fuori, si è fermato, è uscito volontariamente, arrivati al quinto round, bisognerà fare la conta, del proprio totale, sia delle carte salute, che delle carte conoscenza, quindi, carte salute, che potrebbe essere, come vi ho detto, o quella nera, o quella blu, scusate, o quella nera, o quella rossa, più le carte conoscenza, si fa il totale, e il giocatore che avrà il punteggio più alto, vince la partita, ragazzi, il gioco è tutto qui, poi, ovviamente, ci sono anche delle carte opzionali, che sono tipo, la carta nascosto, che noi abbiamo già messo qui davanti, che sarebbe questa qui, però, questa è opzionale, la potete usare, metterla nel mazzo, come no, poi c'è l'assistente didattico, e altre cose, comunque, il gioco è tutto qui, riuscire a fare queste sequenze di carte, sperando nella buona sorte, che non ti venga una carta doppia, perché appena ti viene una carta doppia, ti buttano automaticamente fuori, e buttandoti fuori, perdi tutte le carte che avevi, tutte quante, quindi, a un certo punto, vedete che uno potrebbe dire, ok, se esco volontariamente, scarto tutto, però mi tengo gli studenti, se invece, e prendo, oltretutto, prendo anche il punto ferita, la carta la prendo, se invece vengo buttato fuori dalla collezione, non solo non lo pesco, però, perdo tutto tutto, anche gli studenti, e quindi non posso andare a stappare, le mie carte difesa, insomma, sembra una cavolata, ma è un gioco che bisogna starci particolarmente attenti, ragazzi, questo, in poche parole, Miscatonic University, che è un gioco piccolino, tranquillamente portatile, perché, cioè, guardate, questa qui è la scatenata, l'altro ve l'ho detto bellina, perché, oltre ad essere con la chiusura magnetica, è anche bellino, perché sembra un pochino un libro, e poi dai, lo stile ci sta, anche messo così in mezzo alla libreria, sembra proprio il classico tomo, magico, qualcosa, insomma, di arcano, dei miti di Cthulhu, è un gioco veloce, è un gioco immediato, non ha una grandissima profondità strategica, perché non l'ha, ora, parliamoci sinceramente, è tutto un fatto, qui per la maggior parte, è tutto un fatto di, secondo me, al 70% di fortuna, perché è la verità, basta pescare, se il mazzo è mischiato male, è la fine, qui dovete averci, uno lo posso fare, uno che veramente mischia per bene, perché ti esce al primo, al primo round, due carte, uguali, ti sei già fuori, e, però, entrano in, in campo, se non ci fossero state le carte difesa, sarebbe stato un gioco, secondo me, passabile, però, col fatto delle carte difese, è bellino, perché danno quella, quell'immersività, e quella strategia in più, che ti consente di bloccare la mossa di un avversario, togliere una carta di mano, pescare quello che ti manca dal mazzo, difenderti da una situazione avversa, insomma, ci può stare, se devo dargli un voto, a un gioco del genere, le do assolutamente un 7 su 10, è bellino, poi, costa veramente una scemata, costa poco, ora, l'unica cosa, va ordinato, io penso, non voglio dire una cavolata, però mi sembra che in italiano non ci sia, cioè, le regole ci sono, però il gioco va ordinato direttamente dalla Chaosium, poi, comunque, tanto in descrizione, nel primo link trovate dove acquistarlo, ed è bellino, ecco, questo secondo me, come dicevo l'altra volta, di Death May Die, basta giochi di Lovecraft, basta, basta, non ne possiamo più, cioè, ne escono 20 all'anno, però, se sono originali, e particolari, ma perché no, cioè, sarebbe inutile rifare un altro Arkham Horror, un altro Edge Horror, un altro gioco dove siamo degli investigatori, dentro una casa, c'è già le case della follia, lì, veramente basta, però, una cosa del genere, che si va ad unire, secondo me, è come un album delle figurine, giochi di Lovecraft, le devi collezionare a tutti, se sei fanatico, infatti, è quello che sto cercando di fare io, è molto divertente, molto immediato, una partita tira l'arte, dura veramente poco, sì, c'è tanta componente, fortuna, anzi, è quasi, gira tutto intorno alla fortuna, però, secondo me, c'è un po' di spessore, anche di strategia, tattico, quindi, è decisamente consigliato, un 7 su 10, ringrazio la Chaosium, per averci un offerto, una copia per la recensione, e, primo link in descrizione, dove acquistarlo, più tutti i nostri social, fatemi sapere cosa ne pensate, secondo me, è un gioco che può essere, veramente interessante, ciao, alla prossima.